Poi, venezia, sono passata dai... e si è capace, stai a guardare di fare 4 minuti, se gira sotto e tu da lì, già tu vai stiamo via vai, adesso non sei stai a guardare, stai a guardare la mattina così, se è già mella non so, poi ci bevete già la mattina non so, non so, non so, non so raghi raghi, raghi, raghi raghi, raghi 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 Sì Grazie